Oggi ospite nei nostri studi Leonardo Irmici, uno dei consiglieri all'interno della casa di riposo Concetta Masselli di Sansevero. Ieri avete festeggiato questa ultracentenaria che ha compiuto 102 anni, ma è stata anche l'occasione per presentare il nuovo organigramma all'interno della casa di riposo. Colgo l'occasione per fare i nostri migliori auguri da parte del Consiglio di Amministrazione alla nostra ospite che ha compiuto i 102 anni. Siamo molto fieri di averla qui in casa di riposo. Volevo parlare del nostro organigramma nuovo che si è insediato a luglio 2014. I componenti oltre a me fa parte del Consiglio di Amministrazione il dottor Falcone, l'architetto Gianfranco Fiore e il ragionier Carbonaro Agostino. Sono molto contento di questa mia esperienza in casa di riposo perché abbiamo costruito una bella squadra e stiamo portando un po' di innovazioni a questa casa di riposo. La quale sta andando veramente bene. Abbiamo cambiato cooperativa, abbiamo dato un affidamento alla cooperativa Oasi che già gestisce tre case di riposo. Quindi è una cooperativa con molta esperienza nel campo. La cooperativa ha portato anche un po' di modifiche nel cambiamento di gestione di igiene. La mattina vengono fatte le docce a tutti gli anziani. Si parte presto dalle sei, entro le nove, nove e mezza già fanno tutti quanti colazione. Poi ci sono degli assistenti sociali che fanno da intrattenimento nella casa di riposo di vario tipo. O giocano a carte o colorano. La cucina l'abbiamo anche un po' trasformata perché anche prima si mangiava bene, anche se al di fuori della casa di riposo molte persone dicono di no. Invece vi posso assicurare che veramente c'è un servizio eccellente sia per quello dell'igiene sia per quanto riguarda il servizio cucina.